Sicily Promotion si è candidata a SMAO per portare il territorio del centro Sicilia alla ribalta, un territorio ricco di paesaggi, di mete turistiche, un territorio che ha tanto da offrire e che grazie a una piattaforma integrata riesce ad accomunare 16 territori, i 16 comuni dell'entroterra, ma anche tantissime realtà commerciali, tantissime realtà che sono protagoniste del territorio, da realtà museali, realtà culturali, associazioni, B&B e tanto altro. Tutto questo tramite una piattaforma integrata, una piattaforma che permette di far sì che il turista possa fruire di tanti servizi sul territorio anche in prossimità, quindi anche guardando a una segnaletica, guardando anche dei servizi di accessibilità e cercando di poter fruire in pienezza di quelle che sono le risorse del territorio anche con uno smartphone, un semplicissimo smartphone o qualunque altro dispositivo, visto che è considerato che la piattaforma è una piattaforma responsiva, una piattaforma che si adegua alle necessità anche del turista stesso. Tutto questo per far sì che l'entroterra possa essere anche un collettore di quel turismo che molte volte è sconosciuto, di quella terra che molte volte rimane da scoprire.